Ciao ragazzi, siamo tornati oggi con un nuovo video. A grande richiesta vi racconto un po' quella che è stata la mia esperienza al liceo, come l'ho scelto, cosa è successo in quei cinque anni, come ho scelto Ingegneria poi e un riassunto finale di come è stata. Perché ho visto che tanti di voi fanno ancora le superiori, quindi me l'avete chiesto, sembrava interessante, ho deciso di parlarvene. Come ho scelto il liceo? Quando ero alle medie, in terza media, non sapevo cosa fare. Ho sempre avuto la passione degli animali da piccolo, mia madre pensava che andessi a fare l'agrario per magari poi lavorare in un'azienda agricola in cascina, però comunque mi era sempre piaciuta la matematica e le scienze, allora ho deciso di mia spontanea volontà di fare liceo scientifico, ce n'era uno nel mio paese, e i miei genitori hanno approvato la scelta. Mi sono iscritto e è iniziata la mia avventura, che è durata cinque anni, al liceo in cui ho conosciuto un sacco di persone, sono successe un sacco di cose, vediamone qualcuno assieme. Questo sono io in prima liceo. Lascio a voi i commenti, meno male sono cambiato, grazie al cielo. Diciamo che non ero il ragazzo più estroverso di tutti, anzi ero un po' chiuso, però comunque iniziavo con dei miei ex compagni delle medie, quindi inserirsi con la nuova classe non è stato poi così difficile. Poi nel corso dei cinque anni sono cambiato tantissimo. All'inizio ero appassionato di videogiochi, studiavo poco e quasi solo le discipline scientifiche, matematica, scienze, fisica, informatica, perché ho fatto liceo scientifico con l'opzione scienze applicate, quindi senza latino, ma con informatica al posto di latino, ora studio ingegneria informatica. Passavo le mie giornate, più che altro quando finivo le lezioni a luna, tornavo a casa, guardavo video su youtube, giocavo alla play, giocavo al computer, studia, archiavo, raramente, solo quando c'erano le verifiche facevo qualche compito e non ho mai spiccato coi voti, soltanto in quinta sono andato benino in matematica, fisica e scienze, cioè benino nel senso media dell'otto, nove in matematica, nulla di eccezionale, però comunque ho sempre coltivato una passione, una curiosità per gli argomenti scientifici, più che altro matematica, fisica, informatica, ero sempre attratto da queste cose, seppur studiassi davvero poco, però magari a casa guardavo tantissimo su internet robe a caso di matematica, di fisica che si facevano all'università, video di youtuber che parlavano di queste robe, perché all'epoca c'era poca roba, erano quasi tutti solo in inglese, quindi ho iniziato molto a conoscere la comunità americana, inglese, a masticare un pochino l'inglese, me la sono sempre cavata, adesso me la cavo ancora e anche tanto grazie a quella mia passione di andare su internet a cercare e immaginatevi nel 2012-2013 la comunità italiana su internet, su youtube, era molto più piccola di adesso, quindi c'era poco materiale e per quello che interessava a me dovevo andare a cercare altrove. Poi, verso la terza, quarta superiore, ho avuto il mio periodo un po' ribelle, ascoltavo solo musica rap, facevo un po' il cretino fuori da scuola, così mi divertivo con i miei amici, passato quello in quinta superiore ho cambiato molto mentalità, sono cambiato tanto tra la quarta e la quinta superiore, mi sono proprio più focalizzato sulla scuola, su quello che avrei voluto fare dopo e appunto è stato lì che ho scelto di fare poi ingegneria, all'inizio avevo scelto ingegneria fisica, perché come vi ho detto io ero sempre stato appassionato alla fisica e alla matematica, poi in corso d'opera all'università ho cambiato ingegneria informatica, magari farò un video anche in cui vi racconto perché ho cambiato, com'è stato e tutto quanto. In quarta superiore, nell'estate della quarta superiore, ho fatto il mio primo test d'ingresso al Politecnico, non passandolo, perché non avevo studiato, ci sono rimasto un po' male ed è proprio stato lì il momento in cui ho cambiato tanto. Da quel momento in cui ho detto, caspita adesso sto per finire di essere piccolo, sto per diventare grande, da 18 anni stai entrando nell'epoca dei grandi. Allora mi sono più impegnato in quinta, ho iniziato a studiare più seriamente, prendere più sul serio anche le altre materie, ho rifatto il test dell'università passandolo a metà della quinta, ho iniziato a appassionarmi sempre di più alle discipline scientifiche, matematica in particolare, mi piace tuttora un sacco matematica, la matematica in generale, fisica, informatica, anche se vi raccontrò magari nel video in cui vi parlo del cambiamento che l'amore per l'informatica è sbocciato dopo, però vabbè quella è una storia a parte. Nel complesso dei cinque anni sono sempre stato molto anonimo, diciamo, non ho mai praticamente fatto sport, ho iniziato a fare sport in quinta superiore, prima anno di università, ora sono strafissato con l'attività fisica, palestra, alimentazione, tutte queste cose, perché è importantissimo, se siete al liceo e state guardando questo video, sfruttate il mio sbaglio, cioè non è stato uno sbaglio perché poi ho recuperato, però sfruttate la mia, diciamo, esperienza per iniziare adesso a fare magari qualcosa, calcio, nuoto, palestra, quello che più vi piace. Però vabbè vi capisco, se non avete voglia non ve ne frega niente perché quando sei in seconda, terza, quarto liceo che hai 16-18 anni non ci pensi, pensi solo a divertirti, a cercare di... come si dice in italiano? Spesso succede questa cosa. A cercare di inserirti, ok, con i tuoi coetanei e... sono anni un po' difficili, belli per alcuni, brutti per altri, comunque difficili perché devi comunque lottare per il tuo status social. C'è intanto il mio cane che abbaia, grazie mia, mi sto registrando. Però tutto sommato è stato bello, anzi è stata bellissima la mia esperienza al liceo, ho conosciuto alcune persone che sono i miei migliori amici tuttora, ho conosciuto un sacco di persone, ragazzi e ragazze, ho avuto le mie prime esperienze con le ragazze, andate male, andate bene... vabbè lo sapete anche voi che andate al liceo che quelli sono gli anni in cui si incomincia. Provo questo cambio di inquadratura perché mi ero stufato di parlare sulla sedia, qua sono più comodo sul letto. Cosa dirvi? Alla fine del liceo è stato tutto bellissimo e mi mancano un po' quegli anni di spensieratezza perché tutto sommato quando poi lo finite, per chi di voi lo sta ancora facendo, vi renderete conto di come eravate spensierati. Era bello, non bisogna essere tristi però perché poi arrivano tante cose belle anche dopo. Quindi questa è stata la mia esperienza di un ragazzo che era molto normale, nella media, voleva quasi non farsi notare. Ecco, avevo la paura a emergere. Poi questa paura, pian piano, verso la fine in quinta e poi il primo anno di università si è trasformata in fame e voglia di spaccare. Ciao, ci vediamo con il prossimo video che esce settimana prossima. È stato un piacere parlare con voi. Ciao, ciao.